Spostato al 30 giugno 2023 il termine obbligatorio per l'aggregazione dei laboratori d'analisi siciliani, più piccoli che hanno intrapreso il percorso di aggregazione, per raggiungere le 200.000 prestazioni annue. La variazione della data di scadenza è contenuta all'interno dell'emendamento approvato dall'Assemblea regionale siciliana a firma dei parlamentari di tutti i gruppi, dopo l'audizione in Commissione Salute dei rappresentanti sindacali dei biologi e delle associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche. Ci sarà quindi più tempo per completare la procedura di aggregazione per le strutture private. Sul provvedimento il Presidente della Commissione Salute all'Ars, Giuseppe Laccoto, ha dichiarato è un provvedimento che ha raccolto un consenso ampio e trasversale, l'obiettivo è quello di fornire un servizio sempre più efficiente ed integrato. L'aggregazione non deve rappresentare un meccanismo formale di sopravvivenza ma la reale riorganizzazione dell'offerta del privato in ambito di diagnostica di laboratorio.